ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo light bulb oggi vado a riparlare riparlare di booleane ma lo facciamo dopo la sigla allora ritorno a parlare di booleane perché in questo periodo natalizio tanti si cimentano per la prima volta perché magari hanno comprato da poco un laser oppure da poco si cimentano nel fare i propri progetti proprio con il funzione di disegno di light bulb e iniziano ad usare le booleane con le booleane ci possono essere qualche problemi a volte non si attivano le icone dove praticamente ci sono le varie funzionalità quindi la somma e le situazioni eccetera eccetera e chiedono consigli sui vari gruppi di facebook tra cui anche il nostro noi che usiamo light bulb e spesso vengono dati dei consigli al 80 per cento giusti al 20 per cento non giusti o quantomeno non corretti vediamo ora di capire quali sono le problematiche che si possono riscontrare quando si affronta la tematica booleane quali sono i problemi come risolverli da cosa bisogna stare attenti e come usare i vari pulsanti delle booleane quindi le icone delle booleane in questo video io utilizzerò come mai faccio da quando l'abbiamo lanciata la tastiera lb key che è quella tastierina che non è altro che una controlla remote oppure telecomando per light bulb mi ero dimenticato di dirvi che io utilizzato la versione 1.4.04 di light bulb chi utilizzasse versioni precedenti a queste può darsi che alcune funzioni che io ho utilizzato appunto in questo video non erano ancora state implementate allora andrò a iniziare con due semplici forme che sono praticamente un cerchio e un rettangolo quindi vado su il tastierino e vado a selezionare il rettangolo e poi andrò a selezionare un cerchio e andrò a mettere diciamo all'interno più o meno coincidente con il rettangolo a questo punto vado a selezionare per prima il rettangolo poi vado a selezionare con control il cerchio e andrò a vedere cosa possiamo fare come avete visto appena ho selezionato anche il cerchio mi si attivano le icone delle booleane ovvero sia quelle icone che mi consentono di andare a fare le operazioni di somma eccetera eccetera io consiglio sempre quando si accendono tutte di andare a selezionare l'assistente booleano io in questo caso lo faccio con questo tasto del tastierino albicchi altrimenti control b da tastiera mi si aprono queste opzioni la prima è l'unione ovvero ossia va a sommare a o quantomeno a unire la che sarebbe la sagoma del rettangolo alla b che la sagoma del del cerchio oppure si fa un'intersezione dove prende le parti comune sia di a che di b oppure una sottrazione che toglie da a che è il rettangolo b che il cerchio o viceversa in questo caso come avete visto io ora vado a cancellare io non ho tracciato i diciamo le due forme quindi non ho tracciato né il rettangolo vedete dice qui converte in tracciato ma io non ho convertito e non non ho tracciato nemmeno il cerchio per cui vedete me lo fa convertire questo cosa significa significa che chi scrive come in questo caso che vediamo in questo commento ad un post del gruppo facebook noi che usiamo lightboard c'è scritto che per andare a diciamo a fare le somme booleane o quantomeno operazioni booleane tutti i tracciati deve essere convertiti se sono tracciati che abbiamo disegnato con gli strumenti di lightboard non serve convertirli infatti vi faccio rivedere io li seleziono entrambi poi vado sull'assistente booleano e come vedete io li posso unire tranquillamente senza tracciarli ok in questo caso li ho uniti torniamo indietro e sfatiamo un'altra leggenda metropolitana io torno indietro con il tastierino in questo modo vedete che ritorno alle varie funzioni allora un'altra un'altra leggenda metropolitana che voglio smentire è il fatto che non si possono unire due forme disegnate con lightboard se questi sono su livelli diversi infatti se io vado a riselezionare quindi sul tasto selezione il rettangolo e con control il quadrato come vedete mi si illuminano tutte le diciamo icone dell'assistente booleano e mi si apre con control b oppure con il mio tastino di lb key mi si aprono tutte queste possibilità quindi anche questo fatto che devono essere tutte sullo stesso tracciato di sullo stesso diciamo livello numero di livello non è proprio vero andiamo a fare un'altra cosa cancelliamo questo mi lascio le mie forme in questo modo vado a cancellare questo rettangolo quindi elimino il rettangolo poi vado con lo strumento matita di del tastierino a fare un poligono 1 2 3 4 5 e 6 ok adesso faccio esc lo vado a vado a selezionare questa figura ok e lo vado a inserire qua allora proviamo a vedere se selezionando questo e selezionando il cerchio posso fare le booleane come vedete non mi si illuminano anche se faccio control b oppure calco apposito tasto di lb key non succede nulla questo perché perché questa sagoma che io ho fatto l'ho fatta volutamente sbagliata cioè aperta vedete non l'ho chiusa allora come facciamo a renderci conto se le forme sono chiuse perché giustamente come si dice in questo commento che vedete bisogna controllare che i nodi siano chiusi ora non è proprio perfetto dire nodi siano chiusi ma è meglio dire i tracciati siano chiusi ovvero sia che formino una sagoma completamente chiusa vediamo se io vado a editare i nodi di questi tracciati che ho selezionato questo caso vedete che ho un nodo che non va a chiudersi con il nodo iniziale quindi questo è un tracciato aperto però la cosa che volevo farvi vedere ritornando in selezione normale è che se io vado a cambiare da linea a riempimento mi si riempie solamente il cerchio perché il cerchio è perfettamente chiuso invece il rettangolo non è il questo poligono non è chiuso allora io vado a selezionare il poligono vado in editazione nodi e vado a prendere questo nodo e lo vado a mettere lì vedete in questo caso io l'ho chiuso e mi si riempie quindi io vado a fare linea per tutti e due posto devo lasciare anche riempimento ritorno sulla mia tastiera principale di albiki vado a fare la selezionarli entrambi seleziono questo contro seleziono questo vado con l'assistente booleano e posso fare tutte le forme e tutte le combinazioni che voglio degli operatori booleani quindi giusto dire che si possono andare a chiudere solamente forme completamente chiude cioè a sommare o a sottrarre forme completamente chiuse a volte si dice anche o perlomeno leggo nei vari commenti che anche se utilizziamo un diciamo non un nome questo va tracciato per unirlo alle palline anche questa non è una informazione esatta andiamo a fare per esempio un cerchio un cerchio in questo modo poi vado a fare un offset e me lo metto magari di 10 facciamo un pochino più consistente poi vado a scrivere qualcosa sul piano di lavoro con uno strumento testo metto qua scrivo mio nome mio nome poi magari me lo vado un po a ingrandire non l'ho tracciato in questo caso non l'ho tracciato vedete che potrei convertirlo in tracciato ma non l'ho tracciato seleziono il nome seleziono con ctrl il cerchio interno della mia pallina posso tranquillamente andare a farmi le mie booleane con ctrl b oppure col tastino e vedete che mi da tutte le possibilità e vari salda e vari sottrai cancello tutto e facciamo un ultimo esempio vado a importare dalla mia libreria una pallina vediamo se la trovo andiamo se ne abbiamo questa magari importa me l'allargo vedete e poi me la duplico perché voglio far vedere una cosa duplico questa pallina me la porto qua ok allora queste palline sono praticamente raggruppate ora io questa la vado a separare perché c'è qualcuno che dice che anche devono essere tutti separati gli elementi perché altrimenti non funziona anche questo non è proprio esatto andiamo a fare un'altra scritta qui in questo modo il mio nome ho ottenuto un po grosso poi va beh lo faremo dopo lo vado a selezionare meno vado prima a diminuire leggermente guardiamo un attimino se così lo largo un attimino modo a centrarlo così me lo vado a duplicare e quest'altro lo metto di qua quindi qui abbiamo vedete sono le medesime figure questa la pallina è diciamo raggruppata perché se io clicco qua vedo che mi dà la possibilità questo cioè non è raggruppata questa è singola potrei raggrupparla però in questo caso non ho selezionato solo uno quindi no questa invece è tutta raggruppata mi si illumina la testina singola quindi vuol dire che io la posso andare a separare guardiamo come si comporta l'assistente booleano io vado a selezionare tutta questa che è quella che è singola ok come vedete io provo a fare con l'assistente booleano quindi con control b ma non mi esce niente perché l'unica possibilità che mi dà è la somma booleana perché vuol dire che io qua ho selezionato più tracciati quindi non ho selezionato solamente un tracciato non selezionati più di uno se invece io vado a selezionare questo e vado a selezionare con control questo tracciato che la parte interna vedete che con control b o col tastieri non mi si apre l'assistente booleano ok la stessa cosa avviene qua se io vado a selezionare questo che mi ha selezionato tutto insieme e il nome mi si aprono tutte le icone mi si apre anche l'assistente booleano e mi fa fare tutte le cose allora guardiamo le differenze quali sono ora questa è quella che è tutta raggruppata ok control questa io per poter inserire il nome con alt b cioè con control b scusate con control b io per andare basta che vado a fare il la somma l'unione booleana faccio così ok e ho ottenuto il mio risultato di avere il nome in questo modo se io vado qua per avere lo stesso la stessa cosa devo fare una cosa diversa qui ho fatto l'unione ve lo ricordate seleziono tutto mi si apre non tutto il discorso del dell'unione ma devo fare l'unione di tutto questo o altrimenti io potrei fare anche seleziono solo questa parte interna della selezione quindi che comprende questo percorso lo faccio vedere lo faccio di rosso che si capisce meglio poi faccio control il nome a questo punto mi si aprono tutte le opzioni dell'assistente booleano ma non dovrò fare l'unione come ho fatto prima dovrò fare una sottrazione booleana dovrò fare questa e tutto mi ritorna nero ok avete ottenuto lo stesso effetto senza andare a togliere dal gruppo tutti gli elementi eccetera eccetera quindi devo un po' ispezionare come fatto il il progetto ritornando al discorso del nome c'è anche chi dice a vedi di fare come dico io cioè vai comparire il menu a tendina clicca su raggruppa quando si unisce cioè preiente scrivi tutto raggruppa quando è unito clicca sul nome fai un offset per fare tutto un contorno eccetera eccetera signori facciamo prima a farlo in questo modo ecco io mi auguro che il video vi sia piaciuto se così vi chiedo di mettere un like al questo video iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanellina se volete altre delucidazioni su questo argomento mi raccomando o commenti sotto questo video oppure nel gruppo di facebook noi che usiamo lightboard ciao a tutti alla prossima